In collegamento telefonico con Giuseppe Stabile di Meteo7.it per un aggiornamento sulla situazione attuale del tempo. La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione al quale si associa aria molto mite e inquieta, una situazione anomala per il periodo in corso poiché oltre a determinare assenza di precipitazioni fa registrare valori di temperatura molto elevati. Infatti su molte località della nostra regione nella giornata di ieri i valori massimi di temperatura hanno sfiorato i 20 gradi centigradi, una situazione destinata a mutare drasticamente però nel corso delle prossime ore. Infatti osservando la cartina sovraimpressione prevista per la prossima notte notiamo come l'alta pressione posizionerà i massimi in prossimità delle isole britanniche consentendo la discesa di correnti fredde di provenienza artica in direzione del Mediterraneo orientale. La nostra regione sarà interessata marginalmente ma gli effetti saranno molto vistosi sotto il profilo termico in virtù della fase molto mite che stiamo attualmente vivendo. Come si presenterà invece il tempo previsto per domani mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio? Per domani mercoledì 5 febbraio lungo la costa avremo condizioni di nuvolosità variabile con basso rischio di precipitazioni. Nelle aree interne montuose la nuvolosità invece si presenterà più compatta e sarà associata a sporadiche precipitazioni di debole e moderate intensità. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote molto basse fino a 3-400 metri. Sporatici fiocchi potrebbero interessare anche le basse colline che affacciano sul Tirreno specie quelle del Salernitano. Temperature in forte diminuzione, venti forti da nord-est specie lungo la costa e sulle vette dell'Appennino dove saranno possibili raffiche di burrasca. Mare poco mosso sotto costa, molto mosso o agitato a largo con possibili mareggiate sulle isole di Ischia e Capri. Per giovedì 6 cielo che si presenterà poco nuvoloso ovunque salvo modesti addensamenti lungo la dorsale appenninica ma con basso rischio di precipitazioni. Insisteranno ancora sostenuti venti nord-orientali con temperature che subiranno un'ulteriore diminuzione relativamente ai valori minimi della notte. Sin da venerdì 7 il freddo batterà rapidamente in ritirata grazie alla nuova espansione dell'alta pressione verso Levante. Cesseranno le correnti settentrionali ma tuttavia nottetempo e al primo mattino farà piuttosto freddo specie nelle vallate e pianure interne dove saranno possibili estese gelate. Una situazione che rimarrà invariata per l'intero fine settimana ma per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito www.meteosette.it dandovi appuntamento al prossimo venerdì su questo canale per un nuovo aggiornamento.